ciao a tutti amici adesso faccio un tutorial dove presenterò una videocamera panasonic 4k allora la scatola è questa ancora mi è arrivato da poco quindi non riesco a spiegare proprio tutto il contenuto comunque vi parlo un po di quello che ho scoperto che in poche parole è un 4k in full hd registra infrarossi con infrarossi è un slow motion fa anche sul motion questo è tutto gli accessori che uno può avere dentro ma che dire questo è un se si riesce a vedere questa è la videocamera è molto bella comoda è un po grande rispetto a quella che sto registrando adesso adesso ve la faccio vedere perché fuori adesso la videocamera è questa qui questa è la videocamera come si presenta questa è la videocamera il microfono av h mi hai per la tv per la tv per la scaricare i file questo è il microfono antirumore antivento questo è quello che ho scoperto che quando si chiude automaticamente si attiva il paraobiett questo è l'accensione per le cuffie questo qua questa è la parte dietro adesso è attaccata la luce per vedere questo è un modello hcv x870 è molto bello più grande di questo anche come display è tutto poi quando lo imparerò bene a usarlo rifaccio una seconda parte del video e la recisco faccio una recensione un po' meglio di adesso che dire spero che questo video vi sia piaciuto mettete un like se vi piace condividete e niente ciao alla prossima ciao 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 ciao